è mia piacevole abitudine creare un video ricordo al termine di ogni corso reiki e questo è stato un weekend davvero particolare poiché è incentrato molto anche sul ridere visti i tempi di crisi e di scoraggiamento non sono certamente mancati i momenti di commozione ma quando ho spiegato il fenomeno dell'abreazione cioè la liberazione di traumi passati per mezzo delle lacrime ho voluto far notare come anche lo scoppio di una risata possa appartenere allo stesso fenomeno in questo video perciò vedremo insieme come al termine di una meditazione al cospetto di un simpaticissimo guru indiano siri moji un ricercatore spirituale nel consapevolizzare di non essere quel che ha sempre creduto di se stesso solo come apparente forma fisica si lascia andare ad un'interminabile risata coinvolgendo sia moji che tutto il gruppo di meditazione si accadete credo che tutto quello che cosa suoni è un freITio e un fai e che non è e ho capito che questo no è molto in te open in te presenti dove c'è quello questo quale c'è questo discomfort and I've realised that I don't exist and no matter what I do to try and create this Dennis it just doesn't work you know there's nothing there there's absolutely nothing there you've gotten rid of Dennis the menace and where is this laughing coming from everything's shaking and laughing you know so it's it's just singing that is so that's my report yes and many people want to know what it means if you say I Dennis don't exist because if you say this anywhere else they'll lock you up so 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 don't don't tell your boss then he will tell you your wages don't exist oh dear how can we carry on up to this you better go back to your seat you better go back to your house nel prosieguo della lezione abbiamo avuto un fenomeno simile seppur per altri motivi che ci ha coinvolti tutti perciò nonostante il numero ridotto a causa del distanziamento sociale abbiamo passato due giornate stupende cariche di emozioni buon umore e sorprendente vitalità questo video ricordo è il mio grande grazie di tutto cuore a tutte le anime meravigliose che hanno partecipato e contribuito a rendere fantastico il weekend appena trascorso a tutti i nostri